In vista della prima convocazione del Consiglio Comunale di Campobasso, prevista per il 7 luglio, Michele Scasserra ha presentato la sua nutrita squadra, composta da ben sei eletti, e ha illustrato le priorità politico-amministrative del Polo Civico. Il Polo Civico durante la campagna elettorale ha espresso una serie di idee, una serie di iniziative, una serie di attività potenziali da mettere in campo. Ci batteremo affinché vengano opportunamente valutate da questa maggioranza che si sta insediando in questi giorni. Certo non dipende da noi governare, avremmo sicuramente accelerato e avremmo avuto un passo più veloce relativamente alle nostre priorità. Staremo a vedere, saremo un pungolo, faremo proposte, sicuramente saremo molto propositivi per quanto riguarda le nostre idee e la cantierabilità delle stesse, ma faremo anche un'opposizione estremamente attenta, non litigiosa, non puntigliosa, ma sicuramente molto accorta. Lei nel corso della campagna elettorale ha puntato molto sulla innovazione e sul lavoro. Sì, credo che l'innovazione sia un elemento essenziale. Quando poi si riesce a coniugare nuove forme di innovazione che portano con sé anche un'idea di marketing, si genera lavoro, si genera attrattività. Mi sembrava una combinazione giusta, mi sembra ancora una ricetta valida, cercheremo di portarla avanti con il massimo delle nostre forze. C'è anche la necessità che Campobasso diventi una città europea, davvero? Questo era uno dei punti cardine del nostro programma. Io sicuramente per quanto mi riguarda, con alcuni dei consiglieri del nostro gruppo, mi recherò da cittadino a Bruxelles per cercare di rinverdire i contatti che ho avuto durante il mio periodo di assessorato, per informarmi e per cercare di formulare al meglio delle proposte che siano non solo credibili, ma realmente attuabili. Gli eletti del Polo Civico non ricorreranno ai ricorsi elettorali. Le elezioni si vincono nelle urne e non nei tribunali, hanno detto, ma Francesco Pilone ha già predisposto una mozione per impegnare il nuovo Consiglio Comunale a designare persone competenti nei seggi per evitare i grossolani errori nell'attribuzione dei voti che si sono verificati alle ultime elezioni amministrative.